buongiorno allora tanto vi ricordo sempre che la prossima settimana penso per una decina di giorni video saranno senza il faccione perché mi faccio vedere col turbante con la testa da Ubriner e cose così quindi perdonatemi vi chiedo scusa in anticipo allora innanzitutto cerchiamo di farvi capire una cosa perché vedo che sulla questione speed rdc c'è un po di confusione alimentata anche da altri non è che se non fate lo speed non vi tolgono il reddito il problema è diverso se non fate lo speed non potete accedere al sito dell'ampal ora quando avete sottoscritto il retiro di cittadinanza tra gli obblighi c'era la ricerca attiva di un posto di lavoro se voi siete vi siete registrati ci avete fatto la dichiarazione disponibilità immediata al lavoro cioè non siete stati esonerati vi siete poi registrati al sito ampal o se non l'avete ancora fatto fatelo adesso perché è un modo per effettuare una ricerca attiva di un posto di lavoro poi che sul sito ampal ci siano ragazzi ci sono più scheletri che baron alla macarena in un cimitero che posti di lavoro sul sito ampal tanto per togliere subito i dubbi ci sono per dire andate a fare le learning c'è una perché ovviamente il sito ampal italiano però devono scrivere e learning invece di corsi e le corsi a distanza perché così va più figo andate a vedere i corsi ci sono c'è un cazzo andate a cercare i posti di lavoro c'è un cazzo però voi siete comunque tenuti a cercare attivamente un posto di lavoro come siete tenuti ma non voi perché se sul sito al sistema c'è segnata ci sono segnate le normativi che riguardano il progetto cioè la fase 2 della ricerca attiva di un lavoro e tutto quanto la compilazione dei curriculum andrebbe fatta in cooperazione con il navigato che non c'è mai altro che io non so quel povero deficiente che ha detto c'è stato uno che ha anche detto armano trova tanti posti lavoro ribadisco se tu quelli dice infili dentro interinari a tre mesi borse lavoro che non li trovate voi perché le trovano i comuni tirocini che non li trovate voi perché li trovano i comuni attraverso i cpf i centri scusami cfp continuano a confonderli quindi navigato centrano zero se ci trovate dentro tutti i lavori che sono sotto i sei mesi allora sì il numero cresce ma in realtà quelli non sarebbero lavori da conteggiare perché lo scopo e l'obiettivo di navigato era un inserimento stabile nel mondo del lavoro non un inserimento precario e limitato nel tempo quindi per favore smettetela di prendere in giro la disversione inventandovi cose che non sono però questo obbligo purtroppo deriva dall'obbligo che avete sottoscritto cioè dovete comunque registrare il sito rampa dimostrando ogni tanto andateci dare un'occhiata io ricordo quando era uscita l'idea dell'app che doveva essere consultata ogni giorno per vedere se c'erano posti di lavoro se erano messi tutti a ridere l'app l'ha fatta lo stesso minchione la doveva fare lo stesso minchione che creato navigator tanto per dire chi è sul sito amp a non c'è niente ma perché neanche le aziende ci vanno ma non è che non ce l'hanno adesso non ci andavano neanche prima cioè si arrangiavano in altri modi si rivolgevano alle agenzie di lavoro interinale e mettevano annunci web c'erano tantissimi modi di sicuro il sito amp al era l'ultimo e tra l'altro per come è gestito ragazzi va è ovvio che la di uno dei candidati andarsene fuori dalle bale insieme a tradico è il direttore dell'amp a che ha lavorato male però purtroppo a causa di questa cosa voi dovete avere lo speed perché se no non potete accedere al sito amp a non potete seguire il sito amp a non potete inserire i vostri curriculum almeno far finta non voi non per la vostra responsabilità è la per responsabilità dell'amp a stessa di tentare di cercare un lavoro premesso che lo troverete più facilmente fuori dal sito amp a che non sul sito amp a e visto l'andazzo della situazione è difficile in generale trovarlo per cui è questo non non è una conseguenza diretta non ho lo speed mi tolgono reddito no non è lo speed quindi non può eccedere al sito amp a se ci fosse un controllo e vedono che tu non sei registrato al sito amp a o non accedi periodicamente potrebbero crearti dei problemi potrebbero richiamarti i tanti non c'è la cancellazione non decade reddito c'è una sospensione prima che decada il reddito la decadenza non è automatico la decadenza automatica quando si scopre che uno aveva i mezzi e prendeva anche il reddito quella porta la decadenza automatica ma quando un reato che rientra nel penale non è una cosa amministrativa cioè qui il discorso è che se c'è questo problema lo si può risolvere attivandosi registrandosi attivandosi lo speed non è complicato adesso io non faccio un tutorial come ha fatto qualcuno in cui non si capisce un cazzo scusatemi perché lo stai leggendo e se devi leggere leggere meno bene vi dico semplicemente ci sono siti che lo fanno gratis ci sono siti che lo fanno a pagamento quello più facile da raggiungere post italiane fatelo in posta se siete un po smanettoni fatelo con aruba ci sono società che fanno l'identificazione via videochiamata basta avere un cellulare con la fotocamera frontale ce l'hanno tutti ormai non la webcam vabbè basta quello non so se qualcuno di voi ha e cliente fastweb sapete che fastweb non vi fa la non è andato in negozio si chiamano i negozi fisici ma per attivare una scheda telefonica di fastweb si fa una videochiamata tenendo in mano la carta d'identità si fa un mini video utilizzando proprio telefono e il mini video viene registrato dal sistema e viene l'identificazione facciale non è una cosa complicatissima perché poi è tutta la procedura guidata ecco cosa che dovete capire importante che la procedura è guidata qualsiasi operatore vi dà una procedura guidata non vi dice fai così arrangiati post italiana il più veloce il più semplice andate lì lo fate non è così complicato ma vi tutela anche perché e questo secondo me è una cosa positiva si sta andando verso una semplificazione dal punto di vista dell'accesso ai servizi governativi che si basa tutta sullo speed perché è più semplice perché invece di dover tenere 10 15 20 password per ogni volta che andate su un sito con lo speed avete solo quello schiacciate lo speed entrate sempre con quello non siete obbligati a tenere un elenco di password lungo come la fame perché a volte poi uno se le dimentica ma succedeva anche a me non è che sto non avete idea di quante volte mi sono scordato la password delle applicazioni delle banche e infatti faccio molto contento da tutte le volte che le dimentichi divertivano una procedura per ricostruirla e sono scorciature con lo speed non è queste scorciature quindi tranquilli non è una cosa complicata una cosa che viene vi viene fatta in modo guidato e assistito però fatela perché dal primo marzo i controlli sul fatto che qualcuno acceda o meno al sito ampal per attivarsi nella ricerca di un lavoro ci saranno in maniera più seria poi ve l'ho detto che il sito non abbia posti di lavoro da offrire non abbia veri corsi di didattica a distanza da seguire e tutto quanto è un altro discorso e lì cade direttamente su lampa non su di voi poi un problema vero e che infatti anche quando devo togliere una scala da una scarpa sapete la questione della chiusura delle piste scinistiche caravaglia in conferenza ha detto che qui non serviranno i ristori ma i risarcimenti ora chiamiamo la differenza un ristoro è una somma che io ti posso dare per darti un piccolo sostegno quello che ha fatto conte con dei criteri storico era dare i soldi che poteva dare per gli atti su quello ve l'ho sempre detto non attacco lui se tu hai 100 euro devi dividerlo per dieci persone è una cosa se tu hai 100 euro devi dividerlo per cento è un'altra ha dato quello che poteva dare che era largamente insufficiente alle necessità in altri paesi si sono organizzati molto meglio e danno molti più soldi dato di fatto ma qui non si parla più di ristori cioè di un sostegno economico a fronte di una difficoltà qui si tratta di risarcimento cioè io ti ho procurato un danno e mo ti devo risarcire la decisione di speranza ha procurato un danno economico pesantissimo perché è stata presa senza praticamente dare queste persone la possibilità di ammortizzare il colpo perché se gliel'avesse detto tre o quattro giorni prima ok ok erano comunque un problema ma tu glielo dici poche ore prima che loro aprano quando hanno già chiamato gli stagionali gente che magari si è trasferita per venire a lavorare lì questi qui poi li dovremmo andare a casa con le pive nel sacco e hanno speso soldi loro però non è che hai comprato le derate alimentari che non userai hai buttato neve perché le piste in febbraio non è che siano strapiene di neve hai chiamato gli intrattenitori hai accettato le prenotazioni che poi dovrai disdire restituire perché non è colpa del cliente tutte queste cose producono un danno diretto e queste cose qui si potevano evitare semplicemente non avendo questa urgenza di aprire prima perché onestamente ormai siamo a febbraio gli ha mandato in vacca tutta la stagione se proprio hai dei dubbi non li fai aprire ma una volta che gli dici di aprire poi gli dici di chiudere pochi giorni non pochi giorni poche ore prima che questi aprano qui hai procurato un danno un danno netto e quindi il discorso di gravaglia non fa non è eccepibile tu hai procurato un danno adesso li devi risarcire non ristorare non gli puoi dare il 20 per cento di quello che hanno perso gli devi dare almeno il 90 per cento di quello che hanno perso perché il danno l'hai procurato tu perché sei ve l'ho sempre detto speranza è un disastro uno dei peggiori ministri della repubblica perché è un pavido è un pavido incompetente quelli che si cagano sotto prendono sempre decisioni con la pancia poteva trovare un'altra soluzione la più banale se non sei sicuro della situazione non li fai aprire così è vero gli stai procurando un danno ma sarà un danno più piccolo di quello che gli hai procurato facendogli spendere soldi in attesa dell'apertura e poi facendoli chiudere siccome speranza è recidivo perché c'è la questione delle palestre c'è la questione dei teatri c'è la questione dei parrucchieri c'è la questione delle sale massaggi tutte c'è la questione dei ristoranti a tutti questi ho detto beh fate queste cose mi mettete a posto e noi facciamo aprire questi hanno fatto quello che gli sono chiesto hanno cacciato i loro soldi e poi non li fatti aprire oltre al danno la beffa perché poi invece di risarcirli gli hai dato la mancetta la colpa lì non è di conte perché se a conte ha 500 milioni di disposizione e il danno è 10 miliardi capisci che non è che puoi dare chissà cosa a tutti la colpa è di speranza la colpa è di chi non ha prospettiva di chi non ragiona sul lungo non valuta le conseguenze perché nei mesi in cui si poteva e si doveva pianificare queste situazioni speranza è impegnato a farsi seghe scrivendo un libro di auto incensazione questo ha fatto il problema è questo dove si pescano questi soldi perché è già chiara la direzione che ha chiesto la lega ci sono soldi stanziabili per il welfare li peschiamo da lì quindi li peschiamo dall'eventuale rem li peschiamo dall'estensione del reggio di cittadinanza non parlo di quello che prendete voi è i due miliardi su cui ragionava la catalfo servivano ad aumentare la platea dei percettori non la vostra cifra perché anche qui la bufala che gira sul aumenteranno veduto quella è una bufala e basta è un'ennesima sparata detta messa in giro il problema è che da qualche parte bisognerà prenderli anche sono i ristori quei soldi lì non basterebbero ma da qualche parte bisognerà cominciare a prenderli e quindi che la catalfo volesse fare queste cose non significa che orlando le potrà fare sul reddito di cittadinanza cioè sul fatto che debba essere allargata la platea io pochi dubbi ce li ho perché il numero di persone che stanno prendendo il posto di lavoro e si trovano senza nulla sta aumentando sempre di più ogni giorno ma se ci siano poi le risorse per la naspi il rem e altre cose è lì che dubito un po è lì che ho qualche dubbio e allora quando qualcuno giorni fa legge il posto della catalfa queste cose adesso io ragiono sui fatti attuali perché se no è ve l'ho detto a vendere fumo perché questa situazione la si poteva evitare se speranza aveva usato il cervello e non la pancia per lavorare ultime due cose la prima la fornero da floris ora la fornero gli può stare sulle balle salvini figurati quanto mi è simpatico a me quel prosciutto che si muove però che la fornero dica salvini che si deve vergognare veramente non è neanche il bue che dà il cornuto all'asino è qua siamo oltre c'è questa disgraziata che con la sua cazzo di legge sulle pensioni ha lasciato centinaia di migliaia di italiani senza né stipendio né pensione vi ricordate la vicenda degli esodati creata da quella deficiente che anche qua non ha visto più là del suo naso perché quello è fattuale è lei che dovrebbe vergognarsi di fronte agli italiani lei è il suo capo quel bocconiano del cazzo che intanto vabbè già il culo al caldo come senatore a vita che quando sai che il problema in italia l'hanno creato le banche l'hanno creato un'industrializzazione selvaggia e fatta con il culo tu invece di colpire le banche che vendevano le tame dicendo che era cioccolata industriali che al massimo ma già sulla catena di montaggio erano pericolosi tu hai colpito le fasce più deboli perché tanto quelle andavano bene invece il grande sistema economico non lo devi toccare perché sennò ti mette a 90 quindi se c'è una persona che deve vergognarsi per quanto salvini mi stia sui coglioni è lei lei deve vergognarsi di fronte a tutti gli italiani e sarebbe anche io che la piantassi di andare sempre a rompere i coglioni a me io lo dico onestamente a me floris mi sta sul cazzo in maniera impressionante per un motivo banalissimo io gente così nella sinistra non ce la voglio io sono stufo di una sinistra salottiera sono stufo di una sinistra che si preoccupa di andare nei salotti buoni con gente che ti deve leggere grande filosofo quando è che la sinistra tornerà in piazza quando è che la sinistra tornerà in mezzo agli operai quando è che la sinistra tornerà in mezzo ai pensionati in mezzo agli studenti in mezzo dei professori se non quando mi fa comodo questa quella no e la sinistra italiana di adesso mi fa schifo perché io dalla destra me le aspetto certe posizioni dalla destra le so so verso chi si rivolge la destra ma la sinistra deve rivolgersi verso il popolo e quando invece di rivolgersi verso il popolo si preoccupa dei salotti buoni non è più sinistra e per chiudere con la sinistra e poi chiudo il video io chiedo scusa io da storico chiedo scusa la meloni chiedo scusa la meloni non perché gli abbia detto qualcosa io la nana crociata continuerò a chiamarla nana crociata glielo dirai anche in faccia che è una nana crociata poi se mi dire una sberla sui cavoli miei ma che uno storico voi sapete quanto ammiro barbero però come tutti gli esseri umani ho anche degli storici che mi fanno schifo ci sono storici che non dovrebbero fare gli storici ci sono persone come questo gobetti che non dovrebbero fare gli storici semplicemente perché si dimentica che usano storico tu non puoi arrampicarti sugli specchi che manco spiderman per giustificare la questione delle foive la destra l'ha usata come arma politica sì come il partito comunista ha usato i partigiani come arma politica ma è possibile che tra un panza che per un partigiano che sbaglia sono tutti colpevoli e un gobetti che e vabbè cosa vuoi che sia successo alle foive non ci siano non ci sia una posizione mediana da seguire possibile che si deve sempre arrivare questi estremi ma soprattutto possibile che gobetti deve rivolgersi a una donna utilizzando la parola zoc ecco perché è da un'altra parte politica è possibile che le boldrine di tutto di questo enorme arco parlamentare ma questo è un discorso che non guarda solo la bellanova così si svegliano solo quando vengono insultate le loro rappresentanti ma non quelle di un altro partito è possibile sentire idiozie non so se l'ha detto l'annunciata la gruber che dice tutte le donne del pd vadano nel gruppo misto per sei mesi come segno perché non hanno messo abbastanza donne come se anche qui cerchiamo di ragionare sulla discriminazione se io metto una persona solo perché è una donna e questa non sa fare una o con un bicchiere io produco un danno al paese punto no bisogna essere così coi para occhi coi paralumi c'è davvero c'è veramente questa è l'intelligenza italiana poi no non stupitevi che negli altri paesi gridano in faccia questo è il discorso ora ragazzi io vi lascio anche oggi è andato molto lungo il video ma avevo un po di rospi ai per piacere la piantino comunque i soliti e bisogna togliere le due cialinanza perché non rompete i coglioni se non c'è reddito vedete i mitri in piazza e non sto sto usando un iperbole anche perché faccio notare una cosa il video di ieri sono stato abbastanza tranquillo non ho esagerato con insulti così youtube me l'ha demonetizzato non so perché l'ha messo in limitazione non so perché forse perché parlavo di ricciardi parlavo di vecini magari mettere anche questo in monetizzazione allora io voglio gentilmente direi tu che se vuoi un il mio pubblico è adulto il fatto che poi lo possono vedere anche i ragazzi non è un problema sinceramente penso che sia più utile più a un ragazzo vedere un video come mio o video di informazioni come quelli di alessandro masala che guardarsi cinque minuti cinque minuti cinque secondi me contro te che sparano puttanate o un qualsiasi video di di ultra calcistico che bestemmia tira accidenti dice frasi razziste ma chi se ne frega perché tanto quali non li tocchi quindi anche youtube secondo me un piccolo esame e soprattutto a fronte di questo minondi di pubblicità zozze di siti di incontri meno male che vuoi essere i femmini friendly ecco vabbè io vi saluto ci vediamo domani e vediamo perché ho l'appuntamento col taglio in quel parrucchiere ma dell'intervento perché meno se poi l'infermire c'è già i loro casini manca solo che devono mettersi a tosarmi cercherò comunque di organizzare se riesco a fare una live di un'oretta altrimenti faccio un video domani per saluti e ho già pronti due video che verrà che andranno sul sabato e domenica che però sono di uno di storia e l'altro di cinema e si prepara i domani se non vai non dalla live ma andrà in onda il video di nw che intanto così gianluca che ha già detto che non lo conosce si sta si stringe un po le chiappe ciao a tutti